ok ragazzi tanta voglia per tutti bentornati in questo nuovo video siamo qui oggi ragazzi con un nuovo live incredibile stratosferico supersonico mitico su frattura da gran pro a posto già un colpo non so se avete notato un colpo è un colpo un colpo iniziamo è promettente questa partita questa modalità è un inizio ragà 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 per favore non mi fate questo non mi fate questo non mi fare questo sostanzialmente dall'inizio della partita oh ragazzi allora adesso mi cazzo bisogna che famo basta che questo lagga non è possibile che mi tira un colpo con un attacco a lui bravi 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 fortissimi è incredibile oh quel secondo lì l'ha dovevi lanciare la torretta ma te vai a cos'è sto lagga cos'è sto lagga cos'è sto eccolo lì il fenomeno grande con il coltello mancavi solo te dove è sciaccallato totale ma sei stupido grande nologo nooo no 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 oh raga non credo non muore non muore certo perché dovrebbe morire certo dopo che gli finisce un caricatore di vespera addosso perché dovrebbe morire no perché nessuno c'ha le mp è incredibile nessuno gioca mai con le mp nessuno oh no raga imbarazzanti dove era? voglio capire dove era oh complimenti che bene 94 sdraiato con alto calibro questa è la roba che vogliamo vedere braaavi il nemico supera il firewall del vostro hater che cazzo vuol dire? ma dove sta? ma dove sta? vabbè ma raga ma cosa vi rendete conto di quattro? 19 e 11 no stronzo o vabbè ma vabbè ma buffalo Grazie a tutti.